Saranno due giorni ricchi e intensi dove appunto Cortona diventerà un giardino a cielo aperto con una decorazione meravigliosa che renderà ancora più onore alla città etrusca. A Cortona il centro storico si trasforma in un giardino ed accoglie vivaisti ed artigiani. Per il ponte del primo maggio raddoppia infatti l'appuntamento con la fiera del fiore e del rame. L'appuntamento tradizionale del primo maggio quest'anno in accordo con l'amministrazione comunale e il Consiglio dei Terzieri vedendo anche l'opportunità del calendario abbiamo deciso che venissera addoppiata. C'è un'occasione delle migliori per proporre il centro storico di Cortona ai tanti turisti, a tanti visitatori proponendo al meglio quindi le esposizioni, le piante e fiori dei florovivaisti cortonesi, l'arredo giardino e soprattutto la tradizione del ferro battuto che chiaramente non può mancare. Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio per tutto il giorno saranno presenti gli espositori delle attività florovivaistiche che con i loro allestimenti decoreranno le tre piazze cortonesi, Garibaldi, Repubbliche e Signorelli. Assieme a queste ci saranno anche i produttori di rame lavorato. Saranno due giornate molto intense per tutto il centro storico, abbellite da giardini floreali con numerosissimi operatori sia del territorio cortonese ma anche del territorio limitrofo nonché di numerosissimi artigiani del rame che verrà esposto come tradizione nel centro storico di Cortona.